Ciao Toolers, oggi andiamo a cambiare il terminal di scarico a quest'AudioTal. Cerchiamo di fare le operazioni a macchina a freddo. Prendiamo un calico e prendiamo le misure dell'osso terminato per poterlo tirare dal sito il più compatibile. Prendiamo i borsetti per poter inserire le terminate siamo in direzione. Cerchiamo di avvitare simmetricamente. Per far sì che il terminale sia dritto.